Cuba, la fine dell'incantesimo sociale della rivoluzione 23 luglio 2021 l'incantesimo sociale repressivo che teneva e pacificava il museo di gran parte della sinistra internazionale è scomparso. Sotto la rivoluzione cubana, e contro la sua immagine benevola, lo Stato cubano emerse pubblicamente, in tutta la sua crudezza e magniloquenza repressiva. Lo stesso Stato cubano che ha creato per? Contrastare l'imperialismo gli enchi una polizia politica onnipresente che combatte la società tenuta sotto il suo controllo. Lo stesso Stato cubano che distrusse in nome del socialismo tutte le organizzazioni popolari e operaie che, con le loro storie di lotta, avevano fatto conquiste socialiste dichiarava una realtà quotidiana. Questo stesso Stato cubano che ha convertito la solidarietà in un segno di identità internazionale, sulla base di tenerci nel sospetto e nella paura tra i vicini. Lo stesso Stato cubano che in mezzo al sempre più grave blocco i enchi sta costruendo più alberghi per i turisti stranieri che infrastrutture per produrre cibo, frutta e latte. Lo stesso Stato cubano che ha prodotto gli unici vaccini in America Latina contro il Covid-19, ma mantiene la sua forza. Lavoro sanitario in condizione di lavoratore dipendente della polizia politica. Questo Stato cubano in quei giorni di luglio 2021 ha mostrato ciò che realmente è, un'oligarchia comune e banale, gelosa di mantenere a tutti i costi il suo potere assoluto, una volgare cleptocrazia con pretese umaniste e illuminate, una piramide di potere solida e sproporzionata come le piramidi delle teocrazie. Egiziane, ma circondata dalla sabbia di spiagge paradisiache. Sostenere oggi le argomentazioni geopolitiche sul posto di Cuba nella strategia mondiale imperiale, invocare che le manifestazioni antigovernative a Cuba sono inevitabilmente pagate dalla destra cubana a Miami, sostenere che i manifestanti sono semplici criminali in cerche di saccheggio, che il vero popolo rivoluzionario è con il suo. Governo sono tutti argomenti che descrivono una parte significativa della realtà, ma non la esauriscono ad un certo punto. Il popolo cubano ha il diritto e il dovere di protestare quanto il popolo colombiano e cileno. Qual è la differenza che sono oligarchie di diversa origine? Con pratiche più o meno brutali? Con una composizione ideologica più o meno differenziabile? Con atteggiamenti più o meno servili con il governo americano? Con ideali più o meno sublimi per giustificare i propri privilegi? Tutte queste immense differenze tra le oligarchie colombiane, cilene e cubane si riducono a zero quando in una bella domenica mattina scopri che oltre le oligarchie mafiose in Colombia e Cile, anche l'oligarchia cubana è di fronte a un popolo senza armi armati fino denti, un po' più o. un po' meno, per schiacciare te e i tuoi fratelli, schiacciare il tuo corpo e la tua mente, se hai avuto l'idea di mettere in discussione la parola di normalità che gestiscono. Tutto ciò che lo Stato cubano ha fatto per produrre vaccini nazionali contro il Covid-19, tutti i sussidi al lavoro, tutti i miglioramenti salariali che offerta molti settori nel mezzo della pandemia, evaporano. Improvvisamente, non solo a causa della spirale inflazionistica e della carenza alimentare indemica a Cuba, ma anche perché è diventato visibile che fa tutto parte della macabra rete della tolleranza repressiva, che chiunque per bene a Cuba può ora scoprire, senza dover leggere un brillante libro sulla controcultura. A coloro che ora vengono ad annacquare questa tolleranza repressiva in questo paese ad apporvi il miraggio dell'armonia militarizzata, possiamo tranquillamente definirli come il nuovo volto di ciò che non dovrebbe avere posto nel nostro futuro. Coloro che, in nome di una futura democrazia o del buon funzionamento dell'economia, vengono a screditare le affinità, le confraternite le energie che sono germogliate nelle manifestazioni, o riducono quanto accaduto in questi. Giorni a semplice vandalismo di mascalzoni sociali, parlano a nome e con il linguaggio di decrepite oligarchie che, ancora una volta, alzano spudoratamente la voce nel nostro paese. Le masse si fecero ancora una volta popolo, con tutte le loro luci e ombre, cessando di obbedire a pesanti catene di comando, e confidando in affetti, affinità e capacità minime di fare e ripensare insieme. Che riaffioravano nella disobbedienza e solidarietà tra uguali, tra violenza spirale, pandemie e carenze. Questa è la nuova realtà che è nata a Cuba in questi giorni di luglio 2021, e da questa nuova realtà, come anarchici a Cuba, vogliamo farne parte. Taller Libertari Alfredo Lopez, Atelier Libertari Alfredo Lopez, estratto dal bollettino Correo dell'Oscar Ibis.